Castel 6, non può nulla sul rigore. Attento nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa. Vereg 5.5, soffre la velocità degli ospiti. Sbaglia troppi appoggi semplici. Uduokai 6 maggio, non sfigura davanti al temibile attacco avversario. Sempre attento e decisivo con il gol nel finale. Pisserand 5, ingenuo sul fallo da rigore concesso agli avversari. Non dà mai sicurezza. Peter 6, partita abbastanza positiva. Spinge e difende con intelligenza. Dà all'81 Gerard S.V. Chiusa parentesi tonda. Kamako 5 maggio, soffre in mezzo al campo, anche perché non ha il meglio fisicamente. Blazkczykowski 6, prova a mettere a disposizione la sua esperienza. Sempre presente. Di Davy 5 maggio, non riesce ad accendere la sua qualità. Troppi errori semplici. Arnold 4 maggio, sbaglia un rigore, ed esce di partita. Ripresa disastrosa. Di Mata 5, poco presente in fase offensiva. Non riesce mai ad accendersi. Dal 57 Mali 5, parte con un tiro pericoloso e poi si spegne inspiegabilmente. Origi 6, si procura il rigore, e si danna l'anima ma non ha mai l'occasione giusta per fare gol, dalla 70 M Gomez 5 maggio, impalpabile dal suo ingresso in campo.